Oggi abbiamo un caso estremamente interessante semplice ma estremamente interessante perché ci serve per spiegare come si fa la rinoplastica in osservando le richieste del paziente cercando di assecondarle più possibile. Questa giovane paziente che vedete nel pre operatorio alla mia destra nella foto si lamentava di avere un modesto gibbo nella parte cartilaginea del naso nell'area che chiamiamo suprative. In realtà non è un gibbo ma è uno pseudogibo che si viene a creare perché la punta ha una scarsa proiezione e è ruotata lievemente verso il basso come ho risolto questo caso senza toccare il profilo quindi nessuna chirurgia su quello che lei identifica come gibbo ma solo sollevando e aumentando leggermente la proiezione della punta quindi si lavora sulle cartilagine della punta mettendolo in tensione un piccolo innesto nella columella un innesto cartilaginio prelevato dal setto nasale e il profilo è perfettamente rettilineo come voleva la paziente ovviamente la punta lievemente ruotata verso l'alto e questo è stato possibile farlo in anestesia locale con sedazione appunto solo riguardando le cartilagini della punta e con un piccolo innesto in dei hospital in un tempo chirurgico di un'ora e le foto che vedete sono dopo cinque mesi dell'intervento.